Mini recensione richiesta da Patreon da Marco Anselmi che mi chiede di fare due parole su quel capolavoro immane del 2003 di Lars Montrier che è Dogville. Che dire della storia di Grace che scappa da due killer e che arriva in questo villaggio, appunto Dogville, in questa cittadina abitata da pochi abitanti. Lei scappa, viene presa sotto la cura di Tom, il portavoce del villaggio, che la fa entrare a lavorare per questi cittadini. Finché non si scopre che appunto la nostra scappa da questi e le pretese verso la nostra Nicole Kidman sono sempre più alte, sempre più forti, sempre più pressanti, sempre più crudelli. Ma la gente non ha ben idea di quale sarà il risultato nefando di questo attaccamento crudele verso Nicole Kidman, trattata quasi da cane. Di più non voglio dire, perché qui siamo di fronte a un film meraviglioso. Montrier gira tutto in un'unica location, perché distrugge i muri, deflagra praticamente qualsiasi tipo di scenografia, rimane pochissimo. Le stanze sono dipinte in terra come fossero dei campi da gioco. Proprio per dare l'idea un'altra volta di come in realtà il cinema discuta su qualcosa che vada oltre la forma e la sostanza di una semplice scenografia. Insomma, come dicevo prima di essere interrotto, con questo Dogville gira un film assoluto, dove elimina quasi del tutto le scenografie, appunto, come ho detto, le mura non servono altro per far capire come in realtà noi esseri umani siamo così stupidi da poter pensare che un muro ci renda sicuri, quando il muro in realtà non è altro che una costruzione inutile, a livello pratico proprio. Nonostante sia utile perché ti rinchiudi, ti senti più a tuo agio all'interno, ma in realtà con questo Dogville sfonda appunto queste mura per cercare un'altra volta di Montrier di scavare a fondo, veramente attraverso ciò che sono le persone. Le persone le scopriamo esclusivamente dentro le mura domestiche, ed è lì che sono le parti migliori del film. Il film è fotografato da Dio, si dimentica assolutamente. Ormai fine del dogma qui, una tecnica cinematografica a livelli di Bergman, a livelli altissimi. Lars Montrier fa un montaggio, una serie di piano sequenza e di movimenti di macchina che sono straordinari. Un film gigantesco che dà alla Kidman quasi il ruolo della vita, un film straordinario insieme a Eyes Wide Shut, qui la Kidman metta la firma, che non ha voluto fare manderla, il seguito che è peggiore, ma che cazzo, ho capito e ci ho litigato, ma ti sei resa conto della grandiosità del film in cui ti ha messo Lars? Per cui con Dogville parliamo di un film che parla di tutto, parla di amicizia, parla di infedeltà, parla di come le persone siano false estremamente, come le mura appunto non esistenti attuiscano questa falsità, perché noi la riusciamo finalmente a comprendere, proprio perché siamo completamente assenti a livello visivo da alcune cose che in realtà nella vita vera vediamo sempre. Questo però è incredibile perché in realtà, pur essendo così teatrale come messa in scena, la regia di Lars Montrier è tutto tranne che teatrale, cinema al mille per mille, inquadratura meravigliosa, montaggio straordinario. Il film poi è uno dei finali più cattivi del mondo, non è assolutamente bonista, non è assolutamente un finale che cerca lo sguardo dello spettatore, ma cerca esclusivamente lo sguardo dell'autore che ha alcune cose da dire sulla cattiveria umana, su come la bontà si possa trasformare in cattiveria, su come la cattiveria a volte diventi bontà proprio perché magari portata fuori da cose che nella vita sono state terribili, che ti hanno tirato fuori dei lati del crattere che sembrano così terrificanti, ma che in realtà nascondono qualcos'altro, così come nasconde qualcos'altro Nicole Kidman, che era bene che questi test di cazzo del villagesso non scoprissero veramente mai. Detto questo, il film è una bomba sotto tutti gli aspetti, come tutti i film di Lars Montrier, quello dico e quello rinego, Lars Montrier è un film brutto, non l'ha mai fatto, fa sempre film ottimi, ha girato almeno cinque capolavori, e Dogville è probabilmente uno di questi, perché un film è messo in scena così, girato così, interpretato così, con una potenza tale nel sonoro, così interessante proprio da nascondere anche gli animali stessi alla vista dell'uomo, per renderli semplicemente parte di un qualcosa che l'uomo vuole avere per portarsi avanti nella propria vita senza nemmeno considerare l'amore per essi, è qualcosa di magistrale. Lars Montrier è un genio, con la sagata di Jack, gli ultimi film lo ha continuamente dimostrato, un genio pazzo e per questo non posso che amarlo.